Sono qui con le bellissime gemelle finlandesi in Inström e vogliamo chiedere loro quali sono le emozioni che si vivono prima in un torneo e se ci sono dei rituali che un atleta fa prima di scendere in campo. Erika, cosa senti in un torneo come questo? Quali sono le sensazioni? È un grande torneo e dal giorno che arriviamo qui è un torneo e il gioco è bello, è bello, è bello, è bello perché stiamo in Griecia, non stiamo in Finlandia, anche in Finlandia, quindi abbiamo utilizzato il gioco e mi piace molto il torneo. Ok, grazie. Hai un rituale prima di gioia? No, siamo rilassati nel gioco prima del gioco, per due ore, e poi abbiamo parlato le tattiche con i coachi un'ora prima, e poi ho cominciato il mio Red Bull e poi facciamo il nostro normale formazione. Ok, grazie, buona l'ai, buona l'ai e vi saluto! Grazie! Ciao! 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 Grazie! Grazie! Grazie!